Informiamo i viaggiatori del treno regionale 5686, proveniente da Treviso Centrale e diretto a Vicenza, delle ore 17 e 51. Arriverà al binario 3, invece che al binario 2. Il treno regionale 5686, proveniente da Treviso Centrale e diretto a Vicenza, delle ore 17 e 51. Arriverà al binario 3, invece che al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla vina gialla, chiede in tutte le stazioni.